Questa manifestazione incredibile, questa eco-fest straordinaria che mette a contatto le persone con la natura, nel più puro, nel più incontaminato dei territori. Ecco, questo luogo che porta, gli abbiamo dato un nome, Oasi, perché è veramente un'oasi bellissima, naturale, ma è anche l'acronimo di Organizzazione per l'Ambiente, Sostenibilità e Innovazione Sociale, dove noi portiamo avanti tante iniziative nel rispetto della natura. Ecco, quest'anno il tema dell'eco-fest è rispetto per la vita sulla Terra. Qui non è un luogo per fare eventi, non è un luogo per venire a bere solo un aperitivo, è un luogo dove poter venire a portarsi a casa ogni volta una sensibilità nel rispetto per il nostro pianeta. È un posto magico, già il Parco San Bartolo è tutto bellissimo, ma questo è davvero un angolo incredibile, dobbiamo ringraziare Claudio Balestri per aprirlo, per renderlo fruibile a tante persone, qualche giorno all'anno. E' questa bellissima manifestazione che si ripete davvero fantastica perché valorizza il nostro territorio, lo fa sulla sostenibilità, sull'ambiente, lo fa attraverso tante iniziative culturali e gastronomiche di grande qualità. Quindi veramente è una bellissima manifestazione, speriamo che duri ogni anno ed è un luogo nel quale davvero tante cose si possono fare, sportive, legate al benessere, alla spiritualità, è davvero un luogo magico. Devo dire che il Parco San Bartolo negli ultimi anni è diventato sempre più un luogo del cuore per tanti pesaresi, cittadini di questo territorio che ci vengono in bicicletta, ci vengono a fare trekking, utilizzano la domenica mattina senza auto per venire con i propri figli e quindi sicuramente lo si ama di più. E' chiaro che questo è un luogo privato e quindi deve approfittare dei giorni in cui è aperto, questo sicuramente in tanti ancora non lo sanno, però vedo la partecipazione a questa manifestazione ogni anno cresce e quindi anche i pesaresi sicuramente cominciano a godersi, come hai detto tu prima, un angolo di paradiso. L'estate è un calendario intenso, il mercoledì, il giovedì e la domenica ci saranno sempre attività di yoga, meditazione, attività sportive, trekking, nordic working, notturno, tutta una serie di attività che possono vedere dal programma per sviluppare sempre questa sensibilità, quello che diciamo alle persone. Anche il periodo autunnale è molto bello, anche lì continuiamo, noi abbiamo una piccola casetta perché qui gli spazi non possiamo costruire e non vogliamo soprattutto costruire, quindi sfruttiamo ogni angolo che era preesistente prima, lo abbiamo ristrutturato, l'abbiamo sistemato e qui continuiamo a fare dei momenti d'incontro, abbiamo fatti per il riconoscimento delle erbe, momenti culturali, la lettura di un libro, presentazione di un documentario, ci sono veramente tante attività che daranno vita e continuano perché la fondazione non è solo un momento estivo, 365 giorni all'anno ci impegniamo nel rispetto per l'ambiente, ci impegniamo anche a fare dei laboratori per i bambini, a insegnare, a far conoscere cosa sono le api, come vivono, abbiamo le casette per le api, abbiamo la fattoria didattica, abbiamo tanti spazi creato perché ci possa essere sempre un qualcosa che possa aiutare a veramente accrescere questa sensibilità. Dobbiamo avere rispetto, dobbiamo mantenere il rispetto per la madre natura che è perfetta, ha fatto delle cose incredibili che le vediamo. L'essere umano a volte non è così perfetto.